Direttamente dalla Cameretta Magica, oggi 17 di gennaio, benvenuti ad un nuovo video. In questo nuovo video faremo un video commemorativo, perché proprio ieri 16 di gennaio è venuta a mancare Gina Lollo Brigida, che è stata veramente una grandissima attrice, proprio una diva. Comunque, prima che prosegua, vi voglio comunque avvisare nell'immediato che questo è pur sempre un video commemorativo e non voglio commenti del genere quando fare una prossima recensione, quando mi saluti al prossimo video, perché qui si tratta sempre di cose abbastanza delicate e questi commenti sono fuori luogo, ok? Comunque, torniamo a Gina Lollo Brigida. Gina Lollo Brigida era nata comunque di Subiaco, un paesino in provincia di Roma. Questa è un'immagine di Gina Lollo Brigida, da giovane, era veramente una bella donna, ma lo era anche da anziana, una bella donna. Comunque, Gina Lollo Brigida fu diretta da diversi registi importanti italiani, tra cui Alessandro Blasetti, Vittorio De Sica, Pietro Germi, Carlo Lizzani, Mario Monicelli e Mario Soldati. Poi è stata pure accanto a diversi attori americani come Tony Curtis, Rock Hudson, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Berlancaster, Errol Flynn e Humphrey Bogart. Comunque, tra i suoi film più famosi possiamo citare Cuori senza frontiere, La donna più bella del mondo, Le bambole, Pane, Amore e Fantasia, al fianco di Vittorio De Sica, che tra l'altro Pane, Amore e Fantasia è stato pure girato vicino a dove abito io, a Castel San Pietro Romano, Pane, Amore e Gelosia, sempre insieme a Vittorio De Sica, Enrico Caruso, La leggenda di una voce e che altro, La Romana e molt'altra ancora. Comunque, ah poi ha interpretato pure la fata turchina nelle avventure di Pinocchio, vi faccio vedere le immagini. Le avventure di Pinocchio, quello di Luigi Comencini che a parer mio è il miglior Pinocchio, che abbia il miglior adattamento di Pinocchio, poi ha pure partecipato a Love Boat per un po' di episodi e Una donna in fuga, poi di riconoscimenti ebbe comunque tre Golden Globe, tre diversi David di Donatello, tre nastiri d'argento, un premio BAFTA e ebbe pure la stella nel 2018 alla Hollywood Walk of Game e comunque fu anche doppiata comunque Ginello Lobrigi, darà qui da Lidia Simoneschi, Rosetta Calavetta, Dia Cristiani e poi molte altre doppiatrici che ora non vi sto a citare perché comunque sono nomi poco conosciuti. Comunque che altro c'è stata a dire? Beh, comunque è stata veramente veramente una grande perdita per la nazione, perché comunque Ginello Lobrigi, come ho detto in precedenza, è stata veramente veramente una grandissima diva. Certo, però non c'è da lamentarsi, aveva quasi 96 anni e comunque i funerali verranno fatti alla Chiesa degli Artisti a Roma e poi comunque sarà tumulata nel suo paese natale a Subiaco, com'è giusto che sia, che dire, e niente, ci vediamo alla prossima.